Loro continuano a definirlo solo un rapporto molto intimo, ma di fatto Veronica e Sara del grande fratello passano sempre più tempo insieme. Dopo il bacio saffico durante i festeggiamenti di Capodanno e le carezze di Sara per consolare Veronica dopo l'incontro col padre, le due belle concorrenti si sono esibite in un balletto sexy per Gerardo, il nuovo ragazzo spagnolo arrivato lunedì. Ormai Veronica e Sara condividono tutto e si sa, il passo tra amicizie ed amore è davvero breve. Grazie a tutti.